Il progetto SAGE 4 è parte del programma Clean Sky europeo. Abbiamo installato un'attività nuova per esplorare e investigare le performanze delle caratteristiche di power generale. L'attività tecnica e l'attività tecnica con i ingegneri testi sono il clave per fare un test plan. L'efficienza dell'attività di gearbox è fondamentale per andare verso le transmissioni prossime. Questo test bench può gestire un'attività di potenza simile a quello necessario per una piccola città. Grazie a questa attività abbiamo le right tools e tecnologie per esplorare il prossimo standard per il design di gearbox di gearbox. Durante l'avio-drive-su'efficienza della campagna di efficienza, abbiamo avuto un'inzito più profondo nei meccanismi di generazione di power loss. Abbiamo imparato ogni giorno, sempre per migliorare le componenti e le performanze. È stato un'attività molto complessa e interessante. Partica della campagna di gearbox di gearbox. Il nuovo strumento è stato un'attività di gearbox. Grazie a tutti.